Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ultra cringe Come potete vedere siamo tornati nel mondo delle cose sferiche Ma perché ci siamo tornati? Abbiamo già visto tutto Beh, sì, tecnicamente Però hanno rilasciato una nuova versione E questo è il risultato Ora tutti i mob sono sfegici Hanno fixato moltissimi bug E quindi questo mondo è ancora più... Non lo so, strano Io non voglio realmente vedermi Cambiamo visuale che è meglio Comunque prima di tutto le ceste Le ceste sono finalmente tonde perché prima non lo erano E dentro questa ceste e altre ceste che ho sparso nell'isole Abbiamo nuovi oggetti da farvi vedere Cominciamo prima di tutto dai pistoni Che si erano visti l'altra volta Che effettivamente erano rimasti quadrati Anche se nell'inventare me li faceva vedere i tondi E invece no, sbamma ragazzi Guardate un pochettino, li hanno messi i tondi Che poi non sono perfettamente tondi Perché lì ovviamente sono schiacciati Mettiamoli una torcia dietro Che guardate anche la torcia è fatta di cose tonde Tra nel bastoncino che beh Non potevano se no farlo un bastoncino a tondo Cioè non esiste E già questa è una figata E guardate quando il pistone viene spinto in avanti Effettivamente c'è un pezzo della sfera che avanza È veramente una figata questa È fatta molto molto bene Continuiamo con altre cosettine molto spicy Le shulker box Che ho detto l'altra volta che appunto erano blocchi Cioè cesta alla fine Ed erano comunque anche quelle lì quadrate E invece ora sono tonde Cioè insomma più o meno diciamo Non si capisce molto ma la sferettina Ah no già la sferettina sta davanti nel mob Non nella chest Va bene ok Non sono particolarmente belle ma nemmeno troppo brutte Sempre qua nell'inventario abbiamo le pressure plate Che le hanno fatte tonde anche queste qua E poi anche i tappetini Che sono una cosa molto molto carina Infatti non aveva senza averli quadrati Se tutto il mondo poi era sferico Ovviamente anche le ender chest Come le chest sono tonde E una cosa che sinceramente l'ultima volta Mi sembrava non fosse così Ma non ne sono sicurissimo Però sta di fatto che guardate Che figata Sembra Non lo so Non so cosa sembra ma è bellissimo Tipo veramente è fatto ultra bene Poi quello lì penso sia comunque il blocco Di diamante dentro quello che si vede normalmente In questa mod Questo qui cos'è uno specchio? Assolutamente no È semplicemente uno standardo Fatto molto bene Ovviamente alcune cose non possono essere tonde Totalmente diciamo è più ovale Ma beh è ovvio Se è due blocchi per uno Non può essere tondo E lo so che dico tondo Ma sono sfere Però per capirci Altri cose molto interessanti Il letto Che oh mio dio Che cosa bruttissima che è È bruttissima perché effettivamente manca un pezzo Cioè hanno fatto due cosettini così Però No Anche se i pezzettini sotto in effetti sono carini così E come potete vedere qua dal mio inventario Ci sono anche le teste Ovviamente avendo convertito tutti i mob a sfere Anche le teste sono convertite a sfere Ho preso una standard E una delle ender dragon Che mamma mia ha messo così Decisamente non fa paura Ci sono anche questi altri blocchi Che purtroppo Sono rimasti normali Come potete vedere Infatti Sono rimasti standard Ma penso che in futuro Andranno a cambiare pure questi Anche se sono molto curioso Di sapere come potrebbero farli Cioè Non è una cosa semplicissima da fare Qua la legna Sì Anche se il fuoco è un po' un casino Non penso si possa Ma questi due qua Mmm Un'impresa difficile Comunque andiamo subito In quest'isola E vediamo intanto Il villager E poi Il lama Che oh mio dio È bruttissimo Veramente bruttissimo Sembra di stare veramente In un altro gioco Le fans tra l'altro Come potete vedere Dall'ultima volta Le hanno aggiornate E ho detto Eh ma che brutte Queste cose qui Che stanno così Quando tutti i blocchi Sono delle sferette Le hanno modificate Le hanno rese Dei cilindri Alla fine Dei cilindri qua Ma poi qua Sono rimasti Dei pezzi di legno Normalissimi Ci sta molto meglio Rispetto a prima In effetti Farle a sfera Sarebbe stato impossibile Tutti i cilindri Ci poteva stare come cosa Ma che così Non è affatto male Anche il cactus Come potete vedere Non è più Un cubettino schifoso Ma anche questo qui L'hanno fatto a cilindro La doppia chest Invece Non l'avevamo vista prima Ma quando si va La doppia chest Viene Viene questa roba qui Bruttissima È veramente bruttissima Ma come vi ho spoilerato All'interno Ci sono tantissimi mob Cominciamo quindi A prendere tutti E a provarli Uno ad uno Allora il primo È semplicemente uno zombie Ci siamo già spoilerati La testa prima Brutto Effettivamente brutto Ma non è spettacolare Cavallo zombie I cavalli Io penso che siano bellissimi Se non fosse per la criniera La criniera ci sta malissimo Però il resto ci sta un botto Raga Sono adorabili i gattini così I ragnetti rimangono brutti Ma perché fanno schifo In generale i ragni Il pollo Lo reputo veramente bellissimo E il pesce Ah ok Non sapevo fosse un pesce Questo Non doveva essere qui È imbarazzante Sembra tipo un magic Arpa spiaggiato La mucca Orribile Ma perché proprio ci sta male la testa Mentre il cavallo Mettendo di altra sferetta in cima Ci sta Come anche il pollo Perché ha delle cose davanti La mucca La mucca La mucca no Secondo me dovevano farla più sporgente Se fattibile ovviamente Il creeper bruttissimo Vabbè però potevano anche rifare un attimo la spada a questo punto Asino Che più o meno è come il cavallo Ma ha fatto peggio Ma il creeper Ma perché è così agitato Non sta a fermo Mamma mia Che noia Ma L'enderman Non ci siamo Per alcune cose non ci siamo Questo qui invece è tenerissimo Veramente No Che bellina la volpe Ragazzi ma la volpe così Non è troppo carina Rispetto a quella standard A me piace un casino Ok gli occhi magari sono un pochettino creepy però E il ghast Lasciamola andare in giro Dai Poi vabbè ci sono tutte le varianti Tipo alla fine questo qui è uguale a tutti Tanto che ha la texture differente Come anche lo stray Il wither skeleton È orribile Ma più che altro perché l'hanno fatto Semi trasparente così E poi la testa l'hanno fatta così Cioè Mettete anche la testa un pochettino scheletrica Bucciosissimo il panda Voglio un panda così veramente Anche l'osero Te lo trovo molto più carino del gattino Perché comunque gli hanno messo il pezzo davanti Fatto bene No Che schifo è Ma che schifo è Ma cioè Poi i funghettini messi a caso sopra No Qua non ci siamo per niente Il magma cube Era un cubo In effetti come fai a rendere un cubo Fatto di sfere Non ci sono proprio riusciti Ma che cos'è Ma poi dentro ha una sfera Eh sì perché dovrebbe avere forse un blocco di lava E quindi il blocco non è un blocco Oh che carino piccinino ragazzi Eh però Vabbè ok Buttatevi di sotto che vi devo dire Ah no Si è salvato questo Guardate che carino E poi c'è anche il cagnolino Che beh Nulla di che Quest'isola però Sta diventando un po' troppo affollata E facciamo spazio ai nuovi mob Ah perfetto Passiamo quindi alla shulker Un blocco Se n'è andato Ah perché forse Ok E giustamente lo stavo mettendo su una slab E quindi magari si incazzava Va bene E come la chest Uguale identica Soltanto che appunto Dentro c'ha lo schifezzino A sfera E non Non è vuoto come l'altra In effetti alla fine La box è soltanto Lo suo guscio Quindi ci può stare Questo è un coniglietto La pecora che Ha un problema Ha un problema Dio mio È enorme tipo Ma è massello questo Occupi troppo però Mi dispiace Ma vai di sotto anche te Hanno un problema Con le cose bianche Perché le hanno fatte grigie Se tu sei un maialino Guarda Non ci siamo Le abbiamo anche quasi finiti Almeno quelli di questa categoria Silverfish Che è orribile Skeletro Me l'aspettavo molto meglio Il problema degli scheletri ragazzi L'ho sempre detto È la testa Cioè non ci sta per niente Almeno in questo caso Vedete In questo caso L'hanno fatto bene Lo zombie skeleton Hanno fatto la testa Il collo Semi trasparente E tutto Così dovrebbe essere fatto Sembra proprio uno scheletro Gli altri hanno fatti Cosa sei? Ok Anche grande Grande è più strano Effettivamente Ma perché si vogliono buttare di sotto Ma io ne voglio uno Piccinino È bellissimo Questo qui penso Che sia il mob più carino Mai visto su Minecraft E secondo me Dovrebbero veramente Metterlo Sferico Non so se è cambiato totalmente O una variante Comunque ci starebbe troppo Lo spider è uguale all'altro I villager Fanno schifissimo Questo alla fine è sempre un villager E questo è il phantom Beh Devo dire che di phantom Veri e proprio Io nella capitale Ne ho visti pochissimi Minecraft normale Quindi la differenza vera e propria Non so quale sia Immagino che semplicemente Le parti Tondeggianti Siano squadrate Tutto qua Bene È rimasta soltanto la witch Guardiamola Che alla fine È sempre più o meno come il villager Carino il cappellino Ma per il resto Meh Passiamo alla prossima isola Chest con i mob volanti Soltanto quattro Ce li facciamo bastare Vediamo innanzitutto il vex Che è appena affondato Ma a parte il vex L'abbiamo visti anche prima Perché l'ha fatto esponare L'evocatore Mi sembra Simpatici Nulla di che Il blades Che è interessante ragazzi Il blades Ammetto che è interessante È un po' strana La sferetta lì Però essendo al centro Con tutti i cosettini intorno Che girano Non è male Sono curioso di vedere Il pipistrello Veramente Che schifo sei Anche il pappagallino Ma sapete che Il pappagallino In verità Se non fosse per la cresta Che La cresta Tecnicamente non è nemmeno fatta male Ma è proprio un cosettino sopra Che ha la cresta È molto meglio Rispetto a quello standard Ragazzi Cioè Ma stiamo scherzando Guardate che carini Cioè Sembrano veri Ecco Secondo me certe cose Ci starebbero troppo Su Minecraft Devo dire che è la cosa più brutta Però sono io Che schifo Ultima isola ragazzi C'è l'acqua L'acqua purtroppo Non hanno ancora Trovato un modo Di farla Diciamo Non sferica Perché secondo me Sarebbe abbastanza brutta Ma perlomeno Guardabile Perché così È veramente orribile In compenso Hanno fatto le barchette Che Stai lasciando il baghino Che si vede così Sono Orribili Il remo Ci sta un casino Ma la barchetta in sé per sé No grazie Ma cominciamo con i mob Tartaruga Che è bella È bella È veramente fatta bene Cioè Ci sta un botto Pesce tropicale Mettiamoli anche un pochettino Nell'acqua I pesci penso che siano perfetti Cioè Non c'è molto da dire Squid Uno fuori Uno dentro Brutto Questo è orribile Orribile veramente Pepperfish Bellissimi Veramente bellissimi Gli occhi Mi sa che li hanno messi Un po' troppo in alto Salmone Fatto male Fatto male Perché è diviso in due Comunque Se non l'avessero diviso Ma fosse dato soltanto un pezzo Top anche quello No scherzo Anche la faccia è orribile Vabbè Il salmone non si salva Il guardian È strano È strano Molto strano Elder guardian È più o meno senza cosa È un po' strano ragazzi Perché c'ha i padelloni di lato E poi il coso al centro Ma non ha senso E poi come ultimo Il delfino Che Sembra che Sia malato Devo dire però che gli altri pesci Quelli standard Sono molto carini Anzi Bellissimi a mio parere Molto meglio degli originali Ragazzi per oggi non ho altro da mostrarvi L'aggiornamento devo dire che è molto figo Sarebbero da rivedere alcune cose Perché in certi casi sarebbe meglio valutare Un pochettino il fattore estetico Piuttosto che andare sempre a rendere tutto una sfera Perché se invece di fare una sfera Come anche in altri casi Non hanno fatto la sfera Perché effettivamente tornava male E magari faceva una cosa un pochettino più allungata Sinceramente veniva molto meglio Detto questo Spero che questo video l'edizio Mi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti Ciao a tutti